La finale dei Win Summer Festival arriva a Milano con tutti i protagonisti dell'estate 2018 ecco la data di messa in onda. La scaletta e i cantanti cresce l'attesa per la finale dei Win Summer Festival 2018 che per la prima volta sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105. Una lunga notte di musica con protagonisti tutti i cantanti che ci hanno fatto ballare, cantare ed emozionare durante l'estate 2018. Win Summer Festival la finale ecco quando va in onda domenica 16 settembre dall'area Expo del Parco Main di Milano andrà in onda, in diretta su Canale 5, la finale del Win Summer Festival 2018. Lo chermesse musicale dell'estate, condotta da Ilari Blasi con Rudy Zerbi e Daniela Battaglio, è pronta a salutare i telespettatori con l'ultimo imperdibile appuntamento.co prodotto dalla fascino di Maria De Filippi e dalla FEP Group. Il Win Summer Festival sarà trasmesso in contemporanea anche su Radio 105 da Anni Media Partner dell'evento. Non solo, proprio su Radio 105 dalle ore 18.00 verrà trasmesso dall'area Expo. Parco Main di Milano una lunga diretta con la partecipazione di grandi ospiti del panorama musicale italiano e tante interviste esclusive. Sponsor dell'evento si conferma anche per l'edizione 2018 Win, uno dei brand di Win 3, azienda guidata da Jeffrey Edberg, Ai vertici del mercato mobile in Italia e tra i principali operatori alternativi nel fisso punto siete curiosi di scoprire la scaletta e tutti i cantanti protagonista della finale del 16 settembre. Win Summer Festival Scaletta e cantanti tanti, tantissimi gli artisti protagonisti dell'ultima puntata del Win Summer Festival. Lo chermesse Canora, dopo aver infiammata Piazza del Popolo a Roma, arriva per la prima a volte a Milano nell'area Expo. Parco Main con un diretta radio-televisiva.Quale sarà la canzone dell'estate 2018? Diversi tormentoni che quest'anno ci hanno fatto ballare, cantare e divertire.Ecco di seguito tutti gli artisti protagonisti della finale Expo. Mammat, Pezzali, Marika Eia, Inavaro, Soler, Fabio, Rovazite, Colors, FT, Jax, Annalisa, Iram, Abendi e Fede Ermal, Metate giornalisti, Bob Sinclair, Luca Carbonino e Mitakagi, Ketra, FT, Giussi, Ferreri, Fabrizio Moro, Federica Abate, Carl Brave e Francesca, Michelingum, Dabasce, Loredana, Bertegigi, D'Alessio, Ornella, Vanovi e tanti altri. L'appuntamento con la finale del Wind Summer Festival 2018 è per domenica 16 settembre in prima serata su Canale 5. Non perdetelo! Eccovi il promo di media se potrebbe interessarti Canale 5 torna su Sky. Sarà visibile sul canale. Chau, 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 chau!